Grazie a tutti. Per parlare di digitale, se mi fai una domanda, me la faccio da solo se vuoi. Allora, direi di iniziare raccontando un po' l'approccio, quello che io considero essere fondamentale quando si parla di digitale, l'approccio per la comprensione degli elementi fondamentali, il digitale, ovvero guardo al digitale come se fosse una specie di grande onda che ha travolto la catena del valore dell'industria classica. Io prendo sempre a riferimento due aziende, un'azienda è Technogym e l'altra azienda è Apple. Sono due aziende nate entrambe negli anni 80, due aziende che hanno visto negli anni 90 andare di moda il design, cioè fare oggetti industriali però anche belli. Un'azienda però delle due, Apple nel 2001 lancia l'iPod e quando lancia l'iPod Steve Jobs in conferenza stampa dice una cosa abbastanza importante, cambia drasticamente la mission di tutta l'azienda. Cioè dice noi non facciamo device, non facciamo oggetti industriali ma creiamo occasione di contatto con esseri umani. Questo approccio fa sì che dal 2001 in poi per esempio la musica nel mondo perda completamente di valore inteso come industria discografica e piano piano si fa largo tutto il sistema che oggi conosciamo, dei file degli MP3 Napster e Apple di fatto distruggono l'azienda ma ad oggi Apple più o meno l'84% dei suoi ricavi non li fa più dal ferro, cioè dalla vendita del cellulare. Lo fa grazie alla vendita del cellulare, dei vari device anche da tutti i servizi e da tutti gli altri sistemi che ad essi sono collegati. Questo per dire che improvvisamente il digitale ha reso l'aspetto fisico del mondo una sorta di scusa per poter fare altro. Prendo ancora una volta un esempio, la prima quella che io chiamo liquid economy, la grande rivoluzione che ha portato Google al centro del digitale è rappresentata dal fatto che il digitale a un certo punto ha distrutto l'editoria mondiale perché i siti internet, i siti come il Corriere della Sera vedo che nella press room si parla anche di... i siti come il Corriere della Sera hanno non compreso quello che stava succedendo, newspaper si dice in inglese, no? E l'ascissione che il digitale ha determinato del supporto, come nella discografia, il cd da una parte e la musica dall'altra, il supporto nel caso del giornale diventa un sito internet e invece il contenuto è l'articolo scritto all'interno del sito internet. Ecco, quello che purtroppo è successo nel mondo dell'editoria è che hanno trasformato la manchette, che erano centimetri quadrati all'interno dei giornali, in banner, hanno inventato l'idea di spazio dove lo spazio di fatto non esiste, perché internet non è fatta di spazio, internet è fatta di connessioni, Google invece di vendere spazi pubblicitari infatti vende delle connessioni, cioè ruba gli articoli del Corriere, quindi l'aspetto liquido del Corriere, quindi newspaper, dicevo prima una parola composta, news è l'articolo, paper è il sito internet, Google prende soltanto le news, prende solo il testo e lo usa per creare un ranking, dentro il quale ognuno di noi va a cercare le parole, io cerco computer e Lenovo vuole essere collegato con me che cerco la parola computer, quindi da un lato tu hai gente che continua a vendere spazi pubblicitari attraverso dei banner, dall'altra parte hai un signore che vende delle connessioni in un luogo che è fatto, un non luogo direi, che è fatto di connessioni, quindi Google ha usato il potenziale di questa grande radiazione capace di scindere il supporto dal contenuto, lo ha usato in modo proprio, è un po' come se tu hai un troglodita, dai il fucile e lui che è abituato a usare la clava, lo usa ancora come una clava, cioè lo usa per dare le botte, Google invece ci spara col fucile, per questo che Google ha raccolto tanti soldi e ha distrutto completamente l'industria editoriale a livello mondiale. Questa è la prima grande fase, diciamo così, la liquid economy come la chiamano, della rivoluzione digitale. La seconda grande fase è che questa liquidità produce come effetto l'esigenza, la nascita delle cosiddette piattaforme, e cioè la sharing economy, secondo grande gradino di questa scalinata o questa rivoluzione digitale. La sharing economy prevede il fatto che, come se fosse un teorema, l'asset non ha più valore, ovvero, faccio un esempio concreto, l'avrete sentito forse, alcuni di voi l'hanno già sentito mille volte, Uber è la più grande transportation company del mondo, ma non ha neanche una macchina di proprietà, Airbnb è la più grande accommodation company del mondo, ma non ha neanche una casa di proprietà, Alibaba è il più grande retail del mondo, ma non ha neanche uno store, un magazzino di proprietà, non ha neanche un negozio fisico di proprietà, Facebook è il più grande editore del mondo, non ha neanche un giornalista, Instagram è il più grande archivio fotografico del mondo, non ha neanche un fotografo sotto contratto, Spotify è il più grande archivio musicale del mondo, non ha neanche un musicista sotto contratto, di cui gestisce davvero i diritti. Questo ti fa capire come nella sharing economy, conseguenza della liquid economy, in realtà il vero padrone del mondo non è più chi ha l'asset, cioè la tua casa non conta più nulla, il padrone del mondo è colui che ti dà l'accesso e mette insieme tutte queste proprietà, tutti questi asset. Quindi chiunque oggi pensa di fare investimenti e cerca di farli su asset fisici, sottovalutando questa enorme radiazione che chiamiamo rivoluzione digitale, non si rende conto che il mondo è cambiato in questo senso, cioè in modo straordinariamente concreto, no? E fa deprezzare i valori delle case, deprezzare il valore, come dire, della musica, perde valore perché qualcos'altro ne acquisisce. Terzo passaggio, quindi abbiamo detto liquid economy, sharing economy, terzo momento, la data economy, cioè se è vero che internet è fatta di connessioni e non di spazio, allora nasce il dato. Che cos'è il dato? Spiegato in termini molto semplici. Il dato è quella cosa che si crea ogni volta che due device entrano in contatto tra di loro. Chi gestisce questi dati produce conoscenza, produce quella che si chiama insight. La cosa straordinaria della data economy è che, altro teorema fondamentale del digitale, non è il padrone dei dati quello che fa i soldi con la data economy, con i dati, è quello il quale li colleziona, li analizza, li rielabora e li rivende al padrone dei dati. Quindi tu hai l'advertiser che è legittimamente padrone del dato, cioè quello che fa pubblicità su internet, attraverso Google, però poi quando vuole rivendere il suo prodotto la volta dopo, con dei dati, li ricompra da chi? Da quello che ha collezionato il suo dato, che è Google stesso, e glielo ridà. Il dato prodotto dai soldi della pubblicità, da me che faccio l'investimento pubblicitario, viene rivenduto a me la volta dopo. E quindi questo terzo momento ti fa ancora una volta capire che, abbiamo detto, non è il supporto fisico, non è l'asset, non è la proprietà del dato, ma è la capacità di gestire in modo liquido attraverso una piattaforma e aggregare informazioni e conoscenza che fa fare i soldi al tempo del digitale. Questo è giusto per inquadrare le tre grandi fondamentali ondate di questo tsunami gigantesco che sta cambiando la faccia dell'economia planetaria. Il quarto grande momento è quello della rivoluzione determinata dall'intelligenza artificiale o dal cosiddetto algoritmo di machine learning. Quello che rende un evento come questo un evento archeologico, se mi consenti, perché quando si dice facciamo una maratona di coding, quindi facciamo un luogo dove un sacco di sviluppatori fisicamente si mettono a scrivere codice, stiamo sottovalutando il fatto che tra 5-6 anni questa roba non esisterà più. Cioè noi in 5-6 anni non avremo più, quando Obama ha detto erroneamente, e lo dico perché è un fatto, peraltro non sono l'unico a dirlo, quando ha detto il lavoro di domani è scrivere programmi, non è vero, perché chi oggi sta scrivendo programmi per lo più scrive programmi di machine learning. Che cos'è il machine learning? È un sistema, come qualcuno di voi sicuramente saprà, è un algoritmo che tra l'altro si autoscrive. Quindi tu tra poco avrai algoritmi che apprenderanno dagli output che ne derivano, nuovi input e quindi si autogenereranno. Quindi un luogo in cui fare un hackathon come questo non ha più senso, perché sono le macchine che fanno lo sviluppo, apprendendo da sole e auto... Questo è il prodromo, diciamo, l'inizio del processo dell'artificial intelligence, cioè di un sistema che si autogenera, che autoproduce se stesso. Ci rimarrà il party quindi a noi. Ci rimarrà il palco con i pochi amici che ascolteranno il rumore dei terminali scrivere codici. Quindi questi quattro momenti producono quella grande realtà che si chiama rivoluzione digitale. Liquid economy, sharing economy, data economy, artificial intelligence economy. Quattro grandi nuove economie che sostituiscono per intero la catena del valore della vecchia economia. Qualunque azione perpetrata all'interno dell'economia, fuori da queste logiche fondamentali, non produce nulla. Io ho delle aziende, ne ho tre in particolare, fortemente concentrate solo su questi pilastri. Perché senza questi pilastri, dal mio punto di vista, mettere un euro e parlare digitale vuol dire perdere dei soldi. Nel frattempo, chiaramente, questa è la visione teorica, poi c'è la vita di tutti i giorni, che ancora oggi fa sì che le mie aziende funzionino grazie alle relazioni umane, alla fiducia, ma sul tema della fiducia si aggiunge un altro grande, quinto grande momento di cambiamento. E poi finisco questa lezioncina, però basica, fondamentale, che secondo me andrebbe spiegata a scuola, perché molto spesso le persone che si occupano di digitale non sanno le basi, non è che sto facendo un discorso di visione. Confondono la tecnologia magari con un cambio che è più culturale in realtà, forse, sotteso dal digitale, che cambia il modo di vedere le cose. Cambia tutto, ma soprattutto, ripeto, cambiano le logiche. Parlavo di questi quattro pilastri. Scusa, posso chiedere se invece di urlare mi alzi un po' il microfono così? Perché non mi sento? Magari voi sentite benissimo. A voi sentite bene? Perché io faccio una fatica enorme. Va bene. Posso anche parlare più piano? Ah, grazie. No, perché io parlo forte perché non mi sento. Sento solo lui. Che tra l'altro non sono d'accordo con quello che dice, ma scherzo, scherzo. Però, grazie. L'altra grande cosa fondamentale, che secondo me, ancora una volta, è sottovalutata, sottostimata, sotto compresa, e andrebbe spiegata, e se mi consentite spenderei due parole, è la cosiddetta blockchain. E vorrei provare a fare il miracolo di spiegare semplicemente la blockchain. Perché si può spiegare semplicemente la blockchain. Ci provo con la mia compagna, che non gliene frega nulla, beata lei di digitale. Vediamo se riesco. Che cos'è la blockchain? Se uno mi dovesse, anzi chiedimelo, che cosa cambia davvero la blockchain nel mondo? Che cosa cambia davvero la blockchain nel mondo? In realtà la blockchain non è il bitcoin. Non c'entra proprio nulla. Il bitcoin veramente non ha niente a che vedere con la blockchain. Poi è un'applicazione tra le mille infinite, possibili, probabilmente neanche la più interessante. La tecnologia blockchain è, diciamo così, quando è nata la stampa, ogni grande innovazione sostituisce e si inserisce all'interno di un buco che c'è nell'umanità. Ok? Quando è nata la stampa, il buco che la stampa ha ricoperto è il buco della conoscenza. cioè hanno inventato la stampa invece dell'amanuense, del codice, diciamo, degli amanuensi, c'era la stampa e quindi la conoscenza si è diffusa. Poi nasce il motore a scoppio. Il motore a scoppio, invece delle braccia, il motore a scoppio, aumenta il concetto di potenza. Poi arriva internet, se vuoi. E internet risolve il problema dello spazio. io non devo più mandare una mail. Lo spazio sparisce, come dicevo prima, rispetto alla liquid economy. La quarta grandissima, grandissima scoperta della blockchain cambia drasticamente il concetto di fiducia. E soprattutto la fiducia quella che viene cambiata dalla blockchain. Che cos'è la blockchain? Immaginate, per farla semplice, che io adesso prendo un cofanetto, ok? Scrivo dentro questo cofanetto che sto dando questo cofanetto a lui. Lo chiudo a chiave e glielo passo. Lui, questo cofanetto, lo dà a lei. Scrive che lo ha dato a lei. Chiude il cofanetto in un altro cofanetto, gli mette questo messaggio, chiude a chiave e glielo dà insieme alla chiave. Ah, scusate, nel cofanetto mette anche la chiave per aprire il mio cofanetto. Quindi, prende il mio cofanetto con dentro il fatto che io glielo ho dato. Ho chiuso a chiave, gli do il cofanetto e la chiave. Lui lo mette dentro un nuovo cofanetto. mette nel cofanetto il cofanetto, la chiave e il messaggio dove c'è scritto l'ha dato a lei. E lei si trova un nuovo cofanetto con una chiave. Lo rimette dentro un nuovo cofanetto perché lo passa a lei. Questa è la chain, la catena. Io parlo di cofanetti, in realtà queste sono i cosiddetti bloc, sono informazioni, dati, contatto, dato, avevo detto prima, il dato cos'è? È una connessione. Immaginate che in qualunque momento chiunque entra anche a guardare il cofanetto numero 5 di una serie di un milione, è un'informazione che viene scritta. Quindi, tutto quanto è totalmente auditabile, non puoi più non guardare. Quindi, per esempio, se io voglio vendere la mia macchina e vado al Pra e dico che la mia macchina è del 1998, per dire una data molto indietro, se al Pra qualcuno cancella e cambia, io ho imbrogliato perché in realtà era del 95 e ho imbrogliato qualcuno, un amico, gli ho dato un po' di soldi e lui ha cambiato il documento. Per la casa la stessa cosa, per un contratto la stessa cosa, per la mia stessa identità è la stessa cosa. Posso dire di avere una laurea, basta che io dico che ce l'ho e poi qualcuno me la mette dentro la mia identità oppure posso dire che tu hai la fedina penale sporca. Qualcuno lo può inventare. Nel blockchain qualunque intervento si dà viene registrato come un'interferenza, come un dato. Quindi tu non hai più bisogno di fidarti di nessuno perché tecnicamente qualunque intervento viene fatto all'interno di questa catena diventa un nuovo anello della catena e non puoi farne a meno. Bene, tutto questo è tra l'altro diffuso quindi non è in proprietà di nessuno, è partecipato. Cosa vuol dire? Lasciate stare i bitcoin, vuol dire che la mia identità domani sarà frutto di tutta una serie di informazioni una dietro l'altra registrate che non è la fedina penale ma è la serie delle cose che io in ambito digitale ho compiuto. Tutte dalla prima all'ultima. Vuol dire che le grandi rivoluzioni sono non soltanto nel denaro, sono nel modo in cui consideriamo il business della fiducia non c'è più, le assicurazioni non servono più, qualunque cosa basata sul concetto di fiducia potrebbe attendere e sparire perché non ho più bisogno di fidarmi. È chiaro che il principio, la cosiddetta moneta fiat, fondamentale del denaro è la fiducia e lo è, lo è diventato dal 1961 quando Nixon nel 1961 Nixon cancella la parità tra dollaro e oro quindi con Bretton Wood soprattutto qualche anno dopo quello che succede è che tu non hai più una riserva aurea per stampare moneta cominci a stampare moneta lo fai sulla base secondo un teorema economico dei servizi disponibili sul mercato il problema qual è? è che se oggi vai a contare l'oro è lo 0,2% della ricchezza mondiale il cash è l'8,4 tutto il resto è moneta numerica digitale vuol dire che se domani tutti quanti noi andiamo a richiedere i soldi in banca non ci sono e per stampare i soldi in banca ci mettono per stamparli fisicamente qualcosa come 40 anni da un punto di vista proprio dello stampare la carta moneta quindi è impossibile il cosiddetto bank rush cioè la corsa verso lo sportello per riprendersi i soldi se avviene è il delirio e vi do una notizia il motivo per cui 50 euro valgono 50 euro è che ci fidiamo e crediamo tutti la stessa stronzata ma non c'è un vero motivo sottostante per cui 50 euro valgono 50 euro capito? cioè proprio non esiste è che ci crediamo è la fede che fa valere 50 euro tutti parlano della religione ma la più grande religione del mondo è l'economia perché il vero dogma è che la carta valga qualcosa e che i numeri dentro il terminale valgano qualcosa quindi questo è quello che sta succedendo nel mondo oggi prima seconda terza grandissima quarta rivoluzione quella dell'artificial intelligence connessa con questa nuova scoperta che non è internet è un'altra cosa ancora è che è una scoperta ulteriore che è la blockchain in questa cornice bisogna comprendere tutto quello che facciamo dal mio punto di vista non da oggi in avanti ma da ieri in avanti quindi questo volevo dire se mi chiedi qualcosa sul digitale adesso ti ho fatto una specie di bignamino delle cose fondamentali da sapere per potersi orientare in questo mondo dal mio punto di vista poi è chiaro che uno può esplodere ogni singola cosa che ho detto e parlarne per tre giorni però la chiave fondamentale dal mio punto di vista sono queste quattro con la quinta fondamentali e necessarie concezioni teoretiche senza le quali economia fare azienda parlare di progresso parlare di futuro è tutto surreale dentro questo adesso faccio un passaggio ulteriore si inserisce il dibattito di che cacchio di ruolo ho io piccolo uomo all'interno di questo mondo perché il problema vero è bene se domani le macchine fanno il mio lavoro se domani fanno il mio lavoro se domani le masse a cosa sono servite fino ad oggi fare le guerre per l'esercito che aveva più popolazione armata più conquistava e per lavorare tra l'altro lavorare voleva dire guadagnare dei soldi aumentare i consumi oggi abbiamo il pianeta terra le cui risorse stanno diminuendo il lavoro e la guerra viene fatta dalle macchine e quindi c'è un problema che cosa te ne fai di 8 miliardi 9 miliardi nel 2025 di esseri umani sul pianeta cosa gli fai fare e quindi qua si aprono dei dibattiti cioè le guerre nel senso devi ammazzare umani ma se continuiamo a crescere a sta portata e domani il lavoro non lo fa più nessuno siamo rovinati uno dice ma no il reddito di cittadinanza tassiamo le macchine dice Bill Gates ma il problema è che non abbiamo ragionato a sufficienza sul concetto di essere umano cioè che cos'è l'essere umano è fondamentale capirlo io non so cosa ne pensate voi ma io penso che la chiave fondamentale della mia felicità e della mia salute al di là del fatto che col transumanesimo e cioè con la tecnologia che entra dentro di me Google adesso sta lavorando su un sistema oculare per cui misura la glicemia e degli altri parametri in tempo reale e io sono collegato su internet e tutto quello che mi succede mentre mangio eccetera viene monitorato poi mi assimileranno ad un cacchio di oggettino che sono le mie medicine in tempo reale per potermi fare vivere fino a cent'anni e mi sta benissimo ma se non mi fai lavorare cioè se filosoficamente l'essere umano non fa un'azione e metabolizzando filosoficamente si direbbe soggettivando l'oggetto cioè metabolizzando l'azione in crescita non diventa lui stesso di più e cioè non si evolve l'essere umano sta male cioè io pulisco la casa la mia casa e quella casa pulisce me io faccio un buon affare e faccio bene alla mia azienda ma quell'azione buona fa me produce intelletto l'intelligenza produce piacere il piacere produce maggiore benessere cioè tutto noi siamo fatti secondo una logica sembra che ha nessuno interessi di parlare di che cos'è un essere umano ma senza parlare di che cos'è l'essere umano hai voglia parlare di reddito di cittadinanza l'aristocrazia nel settecento è crollata per colpa del fatto non che la borghesia il terzo stato e il clero si sono uniti come qualcuno dice nei libri di scuola ma perché essere un aristocratico cioè uno che non fa una fava dalla mattina alla sera non ti fa diventare intelligente il borghese era più intelligente e ha staccato la testa dal collo agli aristocratici se domani le macchine lavorano e io non faccio più nulla io divento cretino io non sono intelligente perché sono nato intelligente io sono intelligente perché produco faccio azione che fa me stimolo esattamente io dicevo quando è uscito il grande fratello in televisione io prima lavoravo in televisione in televisione quando è uscito tutti parlavano male dicevano se tu prendi dieci premi Nobel e li metti in una stanza non fare niente la mattina alla sera secondo il teorema del cipolla filosofo fondamentale d'inizio del novecento si chiamava il cipolla veramente anche Einstein che se è messo in una casa a non fare niente della mattina alla sera diventa un cretino perché è l'azione che fa l'uomo non è l'uomo che fa l'azione questo concetto fa sì che se è vero che domani l'uomo non dovrà più lavorare e verrà pagato tassando le macchine tu avrai una quantità di zombie amebici pieni di protervia che si riverseranno su internet a scrivere senza nessuna cognizione di causa una quantità enorme di stronzate con una medicina nel sedere che gli consentirà di sopravvivere come degli zombie fino a cent'anni e abbiamo perso di vista completamente qualunque senso quindi non è che io dico sono contro la tecnologia io dico che tu non puoi togliere all'uomo l'azione prima ancora del lavoro che è un altro concetto l'azione quindi tu non puoi pensare è come quando tu vedi nel 1980 esplodere l'eroina un sacco di ragazzi si drogano e uno si chiede perché quella malattia sociale che chiamiamo eroina è l'effetto del boom economico cioè tu hai un ragazzo che famiglia bene non gli dai un problema da risolvere se tu non dai un problema da risolvere a un ragazzo quello è il problema perché è fatto così l'uomo se lo deve creare cioè non è che e se lo crea e tra l'altro se lo crea pure peggio di quello che la vita sarebbe disposta serenamente a darti il problema è come la cacca per le piante infatti si dice sono nella cacca fino al collo perché perché il problema è l'humus è ciò che concima l'intelligenza umana quindi tu hai bisogno del problema per evolverti risolvi e ti evolvi risolvi e ti evolvi all'uomo questo non lo puoi togliere se il problema lo dai alle macchine le macchine si evolvono come machine learning ma l'uomo diventa un cretino quindi dentro questi ragionamenti bisognerebbe dal mio punto di vista entrare ma non lo fa nessuno basta grazie scusate ho finito Andrea Pezzi Andrea Pezzi 30 minuti abbiamo finito se ci sono domande o se volete partecipare con considerazioni io lo preferisco così togliamo a lui vai domanda allora una domanda ma questo se continuiamo a immaginare l'uomo come lo vediamo oggi perché la tecnologia sta portando a qualcosa che forse trascenderà l'uomo cioè la fisicità dell'uomo il fatto di poter trasferire una conoscenza in una macchina domani e togliere all'uomo il problema della morte magari apre delle infinite prospettive che oggi non valutiamo ecco se togliamo all'uomo anche il problema della morte l'abbiamo distrutto proprio almeno il problema della morte lasciamoglielo perché tipo viaggio al cosmo all'infinito noi dobbiamo considerare dobbiamo fare l'apologia del problema io voglio fare un libro si intitola prima quando un tizio è arrivato al governo volevo fare un libro si chiamava Apologia di uno stupido poi in realtà ho pensato l'apologia del problema essere più coerente con il mestiere che faccio io e non parlo di politica allora l'essere umano ci sono due grandi anche qua scusate dico due robe fondamentali per inquadrare la domanda che mi ha fatto da un lato c'è chi dice che il futuro è dell'artificial intelligence l'artificial intelligence è la macchina come ho detto prima che impara da sola e diventa una grande singolarità singolarity che ragiona e supera darwinianamente come darwin dimostra nell'evoluzione della specie supera l'essere umano cioè l'essere umano viene superato dalla macchina questa è la teoria Elon Musk dice bene se l'uomo viene superato dalla singolarità siamo spacciati quindi cari investitori non mettete soldi nell'artificial intelligence ma nel transumanesimo il transumanesimo che cos'è il transumanesimo è quella dottrina per la quale come dici tu la tecnologia si ibrida con l'umano producendo un nuovo tipo di uomo cioè l'uomo oltre l'uomo ora il problema è che come dicevo prima se tu non hai capito cos'è l'uomo e non hai risolto i problemi lasciati aperti dall'esistenzialismo del novecento quindi chi sono da dove vengo dove vado le domande fondamentali avrete letto forse Camus i grandi che però hanno vissuto all'interno di un secolo dove ci sono state due guerre mondiali quindi capisco che non è un tema facile il super uomo niciano è diventato una roba per cui dobbiamo stare attenti però dobbiamo comunque secondo me non rinunciare a cercare di capire cos'è l'uomo perché qualunque progresso tecnologico privo di questa ricerca è completamente come dire c'è un grande filosofo che io amo che si chiama Edmund Husserl che nel 1936 abbraccio butta i suoi appunti posso citare come ho fatto io dovevo fare una presentazione e ne fa un'altra e abbraccio fa un discorso completamente innovativo e da lì nasce un libro che si chiama La crisi delle scienze europee che se vi capita leggete Husserl è studente di Brentano è discepolo di Brentano e diciamo inventore della cosiddetta fenomenologia che cosa dice Husserl lui dice se l'uomo è l'inizio e la fine di tutti i nostri ragionamenti perché noi siamo uomini quindi parliamo di noi non c'è niente da fare e se abbiamo capito che l'uomo è inconscio a se stesso erano gli anni in cui c'era la psicanalisi stava nascendo quindi l'uomo non è completamente in controllo della sua stessa vita diciamo che è imperfetto per essere volgari allora ci dobbiamo chiedere se l'uomo produce un criterio scientifico dice Husserl per misurare se stesso ma il criterio lo ha prodotto lui che è insufficiente a se stesso bene quel criterio è sbagliato perché se l'uomo è sbagliato produce qualcosa di sbagliato e se l'uomo è sbagliato producendo qualcosa di sbagliato con quella cosa sbagliata vuole misurare se stesso per trovare qualcosa di giusto siamo fottuti quindi dice Husserl dobbiamo rientrare nel mondo della vita mondo trattino della trattino vita cioè lui dice bisogna riprendere da capo tutto e dobbiamo per necessità cercare di capire se esiste dentro l'essere umano un criterio che definisce il reale dell'uomo istante per istante e qua si apre un grandissimo capitolo dove tutta la psicologia del novecento si butta a capofitto cercando di trovare una soluzione bene io citerò il mio filosofo preferito che è Eraclito Eraclito che è un signore nato molto prima di Cristo parlava del logos Cristo diceva io sono il verbo e parlava del logos citava il logos quindi Cristo citava Eraclito Eraclito è un signore che dice che nell'essere umano come fosse una fiammella esiste una specie di nucleo un'energia che muta distante in istante in questo momento lo sta facendo anche dentro di me dando a me forme immagini affinché io possa risolvere il problema che mi sono dato cioè spiegare un concetto come quello di Eraclito quindi in questo momento io da cosa sono mosso io sono mosso da questo flusso che l'energia che mi sostanzia e parlo di sostanza l'energia produce forme idee pensiero azione no produce forme che sono immagini che arrivano alla mia coscienza e si traducono in parole in azioni che sono quello che io sto facendo per spiegarmi io devo spiegarmi questo processo in psicologia si chiama formalizzazione dell'immagine cioè il nucleo energetico che si fa immagine come Dio si fa immagine e si fa uomo attraverso l'immagine quindi questo processo è ciò che mi dà la vita mi dà la mia capacità di stare qua adesso e di parlare e che quando non ci sarà più questo nucleo il mio corpo va in decomposizione quindi la domanda è chi sono io beh io in fondo in fondo sono questo nucleo prima di essere questo corpo che è solo il vestimento il vestito diciamo di questo nucleo uno dice di cosa sono fatte queste immagini queste immagini è bellissimo parlare di questi argomenti strillando qua dentro questo casino queste immagini sono invisibili cosa vuol dire invisibili se io ti chiedo dov'è l'immagine dov'è anzi il progetto di questo edificio voi mi dite è arrivato un architetto l'ha disegnato ma prima di disegnarlo dove era? era nella mente dove? e non lo riesce a vedere era un'immagine l'immagine è invisibile per definizione e qui entriamo dentro il grande tema della metafisica che a livello filosofico sembra essere qualcosa che va oltre la fisica in realtà è prima è dalla metafisica che nasce la fisica cioè è dall'invisibile della mia immagine che si genera il mio corpo non viceversa non sono io che immagino ma sono le immagini che fanno il mio corpo qui adesso quindi l'uomo non è un codice di programma fatto di zero e di uno ma è l'uomo se vogliamo chiamarlo codice un progetto lo chiamerei più propriamente un progetto che si proietta in immagini e qua torna la frase della Bibbia l'uomo appunto fece l'uomo a sua immagine e a sua omiglianza che comincia ad avere un significato scientifico se visto in quest'ottica quindi se tu capisci l'uomo come progetto già capisci che è diverso dal programma progetto programma sono due concetti diametralmente opposti il programma io facevo televisione che cos'è un programma un programma è una scaletta dove tu dici sigla alle 8 anzi il programma era quello qua faccio l'esempio qui alle 8 inizi a parlare sigla presentazione ed era tutto scandito con delle slide che avevo previsto programmato quindi avevo una foto dietro l'altra un discorso preparato poi a un certo punto sono arrivato qua ho detto non c'è un cane facciamola in un altro modo cioè non c'è un cane voglio dire sono andati via tutti quelli che erano per Saviano quindi siamo rimasti noi che comunque degni di tutta la nostra attenzione reciproca un applauso a voi allora esatto però grazie e quindi ho detto vabbè sapete che c'è non faccio il programmino che avevo preparato ma faccio un progetto cioè non so cosa dico ma inizio a dirlo e cioè vedete che cosa sto facendo il progetto è diverso dal programma non ho delle slide non sto io non lo so la parola che userò tra un secondo ma so che la userò perché ho una devo andare da A a Z e devo farlo la creatività è il modo la forma che darò a questo spazio che sta in mezzo il computer non funziona così il computer tu gli dai un input gli dici codice per codice ogni singolo passaggio con l'artificial intelligence puoi costruire ogni singola possibile razionale mutazione di tutto questo ma non potrai mai dargli l'intuizione che consente non potrai mai dargli se sei una persona che ha la visione che ho io cioè che esiste un principio spirituale all'interno dell'uomo se invece sei un materialista possiamo discutere fino a domani ma nella macchina la singolarità che vuol dire possiamo arrivare a trasformare lo 0 e l'1 del codice in una singola è impossibile in senso filosofico però purtroppo chi lavora nel mondo della tecnologia non ha mai studiato la filosofia vera e quindi stai parlando a un signore che non sa perché veramente non si è occupato di quello e il problema alla base è sempre la specializzazione che io direi a qualunque scrittore di codice di prendersi tutti i pressocratici di studiare la filosofia di mollare il codice per almeno dieci anni e di dedicarsi ad altro perché forse qualcosa in più lo capisce e alla fine tra l'altro i più grandi sviluppatori della storia sono dei filosofi non sono neanche più ad eccezione del fatto che quando poi studi filosofia il codice forse non ci torni più quindi il mio problema è è inutile rispondere a questa domanda se non prima non ci chiediamo che cos'è l'uomo perché qualunque domanda è inutile non devi fare una conferenza di filosofia non un hackathon scusate l'applauso lo facciamo per avere perso la voce soprattutto ci sono domande pubblico questo è il momento è il momento buono se ci sono alzate la mano vi porto il microfono o arriva un microfono l'argomento ingaggia quindi se non ci sono vuol dire che anche voi avete fame o che è tutto chiarissimo ed è tutto molto non lo so se è chiaro però io diciamo che mi sono divertito per me l'importante è che alla fine andrò via da questa serata dicendo non so che cacchio è arrivato delle cose che ho detto ma io le ho dette tutte come le penso ci abbiamo 8 minuti te ne butto un'altra? no no ma non facciamolo apposta ecco il pubblico porto io il microfono no anche perché così poi ci salutiamo davvero che so che dovete andare a cena allora grazie per tutte non so se si sente grazie per tutte le parole lo sproloquio interessantissimo ma a questi ragazzi che stanno qui e a cui abbiamo fatto questo scenario che comunque è anche un po' spaventoso perché insomma ha dei lati che cosa consigliamo? di studiare filosofia a parte quello cioè nel lavoro visto che hai tre aziende insomma che si occupano di città io ho iniziato a fare l'imprenditore solo dopo aver veramente studiato tanto lo dico con grande umiltà perché c'è gente che certamente ha studiato anche molto più di me però credo che io mi sono io non volevo lavorare facendo l'imprenditore non avrei mai pensato però e ho fatto televisione perché mi dava l'occasione di incontrare le persone fargli delle domande e volevo capire quindi per me la televisione era la scusa per farti un'intervista perché ti stimavo quindi questo era il mio approccio poi ho detto devo ho capito studiando studiando che devo lavorare perché fare un'azione concreta qualifica il mio pensiero e mi dà la capacità di capire se è vero o no non discutendo ma mettendolo in opera e quindi io tutto quello che faccio tutti i giorni è misurare se quello che capisco è reale dall'azione non mettendomi in discussione con gli altri ma con la realtà e cerco sempre di farlo con questa capacità tra virgolette con questo spirito di trascendenza ma tutto quanto inizia dallo studio se tu non studi e non capisci quanto è fondamentale alla comprensione del reale il confronto intellettuale non con Elon Musk che è un bravo ragazzo ma con la quantità di geni che abbiamo prodotto soprattutto in Europa nel corso dell'umanità e che sono presenti non come una memoria scaricata all'interno di un hard disk ma come una quantità infinita di libri straordinari e non ti metti a studiare a leggere non ce la farai mai e siamo qui ad inseguire una roba che esiste già che è tra l'altro ancora più bella se scritta se capito perché è il libro è l'antisignano dell'hard disk di cui parlavamo prima con la differenza che io nel libro posso proiettarmi e inverarmi cioè la Bibbia faccio per dire che è il libro più venduto della storia dell'umanità è carta e inchiostro è un corpo morto ma se io sono vivo leggendola trovo un significato io rendo vivo un corpo morto ma il vivente sono sempre io se invece domani immagini che arriva Einstein riprodotto tra cent'anni che dice che cosa farà Einstein o farebbe Einstein tra cent'anni su una condizione di un certo tipo è un'assumption algoritmica talmente complicata che per capire se quella roba ha senso o no devi avere un altro algoritmo che nessun essere umano è in grado di leggere e quindi rischi di fare una religione attorno ad un'identità costruita da un algoritmo illegibile da un essere umano e quindi di che cazzo stiamo parlando cioè il transumanesimo e l'artificial intelligence rischia di diventare una roba che è impossibile da verificare perché la quantità di calcolo che quella macchina è in grado di produrre io non la so capire quindi devo crederci e quindi avrai un'umanità divisa tra quelli che ti dicono ah ma è l'algoritmo non vorrai mica discutere l'algoritmo e tu dici no è che semplicemente se non capisco e non lo puoi capire è una quantità di persone come me che diranno me ne batto la fava dell'algoritmo la vita funziona per la proiezione Cristo non esiste è morto Cristo però se tu ci credi ti può dare persino la salvezza eppure è un gioco di proiezione talmente enorme che questo signore non è qua però è vero in me e quindi può funzionare pensa alla magia dell'essere umano quindi questa qui è la visione fondamentale secondo me di cui bisogna discutere la capacità proiettiva dell'uomo per la sua realizzazione contro una ricerca surreale ridicola infantile di oggettività attraverso l'artificial intelligence che non va da nessuna parte ma perché veramente diventerà la nuova religione domani ci sarà gente che ucciderà perché tu hai osato mettere in discussione cioè no ma è così e tu dici ma che cacchio di mondo è io ogni tanto ci penso serio veramente e dico se faccio un figlio non so mica se mi viene voglia non è che sono pessimista io l'ho sbangata scusami se te la dico perché io me la sono messa via io ho capito molto più di quanto avrei mai creduto arrivo a toccare dei livelli di piacere che non avrei creduto ma proprio razionalmente fossero possibili a un essere umano io sto benissimo sono libero non devo un cacchio a nessuno amo gli altri e sono felice se qualcuno mi vuole bene ma se qualcuno non mi vuole bene anche no non è un problema che mi cerco di tenere un buon equilibrio con tutti ma poi se non ci riesco me ne faccio una ragione e chiedo scusa se ho osato come dire propormi in un modo sbagliato sto bene e credo che se qualcuno mi dicesse ricomincia da capo piuttosto non ti dico che vedo la morte quando arriverà come una fidanzata da abbracciare ma mi piace pensare che arriverò abbastanza intelligente a quel giorno con questa capacità perché credo che anche quello sarà un passaggio bellissimo da amare ma di ricominciare da capo in questi tempi io ti giuro cioè sì devo ristudiare tutto da capo devo ricominciare con quella follia che avevo da ragazzino però non la puoi insegnare cioè io non io te la so spiegare non è che nella mia famiglia erano così io non ho mai avuto uno stimolo vero da qualcuno è che io non ci stavo dentro cioè io da bambino me lo ricordo ero già avevo voglia e la vita ne fa infiniti di personaggi come me forse tutti lo sono in un certo senso quindi basta soltanto cominciare ad avere quella strana voglia di capire di farsi quelle domande che nessuno ha il coraggio di farsi e che però te le devi fare io mi sono sempre detto cioè perché se esiste esiste Gesù allora perché non io cioè se esiste uno che ha capito perché non io allora perché se tu mi vuoi convincere che solo lui capisce io no allora basta cioè allora è un gioco del cazzo io non ci sto allora mi sparo e facciamo prima invece poi a forza di non pensare che solo lui deve capire devo dire che ho trovato molto di più di quanto sperassi ma molto di più studiare è fondamentale quindi consiglio studiare 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 grazie grazie Andrea e buona cena viva la vita grazie Andrea